Ottimo L'artiglieria che cade Eh ovviamente Magari cerchiamo una specie di accerchiamento No mi ha visto Spara lui spara lui non a me Non a me Ok Però dovevi sparare all'M22 Locust No non a me mi raccomando Sempre su di lui Io non ci sono Ci dovrebbe essere un altro carro Un cacciacarri mi sa E dai ma non è possibile Venire distrutti dall'artiglieria nemica Non ci credo Iniziamo malissimo Ciao ragazzi Bentornati sul canale Bentornati su War Thunder Come sempre Prima di iniziare mi raccomando Subito un bel mi piace al video Se possibile una condivisione Per aiutare sempre di più Il canale a crescere Inoltre per chi volesse Eh può diventare sponsor Del mio canale Link in descrizione L'unità di oggi È l'M3 americano Un cacciacarri Di era Molto bassa Andiamo a vedere subito Le sue caratteristiche Abbiamo Era 1 Livello di combattimento 1.7 Un cannone da 75 Con 60 colpi In totale Velocità di rotazione Torretta 4.9 gradi al secondo Brandeggio verticale Meno 10 Attenzione 29 gradi Tempo di ricarica Con tutto al massimo 10.6 secondi Corazzatura scafo e torretta Praticamente inesistenti Verrete distrutti Anche Da una semplicissima Mitragliatrice Fate molta attenzione Penetrazione 107 90 74 Rispettivamente A 100 500 E 1000 metri Equipaggio 5 membri Abbiamo Il pilota Il comandante Il servente Il servente che dorme E L'artigliere Velocità massima 84 km Orari Anche se Difficilmente Andrete A una velocità Del genere Corazza Come detto Del tutto inesistente Per quanto riguarda Poi Le modifiche Ho messo Un po' Di camuffamenti Per cercare In qualche modo Di essere più invisibili Ai nemici Ecco quelle che ho messo Con tanta cura Ultimissima cosa Questo è l'armamento Che possiamo portare Con noi I vari proiettili Non abbiamo Mitragliatrici Ragazzi Direi che ci siamo Andiamo in partita Ma dove sono i carri Mi sono fatto L'intera mappa Senza trovare Nessuno Allora Andiamo Da questa parte Panzer 4e A questo punto Si trovano Sul settore Di Bravo Torniamo Su Bravo Io ho Praticamente Fatto Tutta la mappa Senza incontrare Nessuno Sul lato sinistro Dal settore Di alfa Per intenderci E adesso Iniziano a venire fuori Eccolo Finalmente Il primo contatto Finalmente Il primo contatto Servente Ok Il servente fuori uso Veloce Perfetto Ce n'è un altro Più avanti Non ti muovere Oh Finalmente Guarda Ci ho messo Non so quanto A trovare Ecco Da dietro Arriva la kill Da dietro No Dai Una volta che trovi I carri Ti distruggono Da dietro Giustamente Perché vanno A respawnare Però ragazzi Così non si può fare Andate sul lato di alfa Come tutte le persone Normali Di questo mondo Mappa Polonia Siamo già nel Casino più totale Abbiamo conquistato Bravo Cerchiamo di andare Per alfa Noi però Come sempre Il settore di alfa Ci prendono di mira Maledetti Fatemi passare Dai Sono appena respawnato E qualcuno Sicuramente Sulla sinistra Che si è Allargato E mi sta sparando Fortunatamente Non abbiamo subito Danni pesanti Solo un Servente Un po' stordito A questo punto Andiamo a sinistra Perché Anzi a destra E poi a sinistra Perché non vorrei Incontrare Altri problemi Vediamo Eh lo so Sto cercando Se riuscissi A passare Là Se ne è visto Uno Di carro No Dai Come un colpo Ok Guarda Non so Chi Tra i due Non so Chi Sta peggio Eh No Ottimo Meno male Comunque Ripeto Tra i due Non so Chi fa più schifo Ci possiamo Stringere la mano Se vuoi Eh Io continuo ad avanzare Me ne frego Dei rischi Me ne frego Altamente Della logica Seguo L'istinto Sì Big boy A casa Stiva munizioni E esplosa Il T35 Tra l'altro È un carro Che vorrei portare È enorme Quel carro È davvero grande Big boy Adesso mi Mi distrugge Qualcuno Che sta Camperando Lì Volevi Eh Volevi Panzer 3 Che mi hai sparato Anche prima Sono sicuro Eri tu No 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 Eh Eh Volevi Anche tu Volevi E invece No Ok Ecco Appena Hai spawnato L'altro No Ce n'è uno Là Che nessuno Si muova Veloce Quanto Sei lento Quanto Sei lento Dai Non è possibile Che ci mettiamo Tre ore Dai Doveva essere Mia la kill L'avevo visto Prima io L'avevo visto Prima io Invece No Spostati Dai Veloce Che qui Vanno a respawnare Tra poco Stanno catturando Alfa C'è qualcuno Oh Eccolo Aspetta Aspetta È sicuramente Un'antiaerea È ok Solo un colpo Sono tutti qui dietro Comunque Possiamo fare Veramente Assist Va bene Lo accettiamo Oh no 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 Perché Perché Aiuto Aiutami 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 Sei dietro L'M22 Però distrugge Dieci secondi dopo Ma ti rendi conto La sfiga Ti rendi conto La sfiga Nel frattempo Quello rimane Steso lì Come se nulla fosse Mappa Mappa Europa orientale Solitamente Non mi allargo Mai sulla destra In questa mappa Però questa volta Ho intenzione Di farlo Diamo un'occhiata Anzi Io mi vado a mettere Esattamente Qui Sperando che Non mi veda Nessuno Ok Là ce n'è uno Ce ne stava uno No Cingolo Non si può muovere Guarda quanti ce ne sono Sono tantissimi Ok Pilota Motore Radiatore No dai Non mi puoi distruggere In questo modo Per ogni volta Mancato Alla grande Mancato Alla grande Ragazzi Mancato Colpito Comandante Servente Radiatore E continua Oh finalmente Ce n'è un altro lì Io non so Quanto riescono A vedermi Da uno a dieci Però continuo A sparare Quindi Molto bene Binocolo Ce ne stavano altri Ce ne stavano altri Però sono riusciti In qualche modo A passare Quindi Dobbiamo un attimo Capire Allora Là ce ne sta Qualcuno Però la vegetazione Mi impedisce Una visuale Chiara Pulita Potrei provare Anche un colpo Random Però non penso Che andrò a colpire Qualcosa Non ho neanche Nulla Come punto di riferimento Veramente zero So che c'è un altro carro Che è passato Sulla sinistra Però non so Se è stato distrutto A questo punto Io direi Di aspettare Qui fermi E di vedere Quello che succede Magari Avete distrutto Bravi Ok Ne arriva uno Mancato 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 Tra l'altro Il carro Quando spara Sembrerebbe Cambiare posizione Diciamo Il rinculo Del cannone Però Ma dove sto sparando Non sto capendo Più in alto Più in basso Più a destra La Eccolo No niente Non lo riesco a beccare Non l'ho beccato Neanche una volta Neanche Un cingolo Assolutamente Nulla Ma quanti Ne stanno passando Ragazzi Quanti Ne stanno passando Se avessi Una mira buona Avrei fatto Già 10 kill Però Non è così No 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 Non ci siamo Eravamo partiti Abbastanza bene Però ci stiamo Spegnendo Come un fuoco Sotto l'acqua Vediamo se Si fanno Vedere E guarda Continuano a passare Cioè Come se nulla fosse Come se nulla fosse Della serie Ok L'aereo è nostro Alleato Siamo attenti Perché secondo me Stanno avanzando Anche la sinistra Tra poco Ci ritroviamo Sulla sinistra Anche sulla destra Siamo abbastanza Circondati Per la verità Oh Finalmente Finalmente Il radiatore Penso che lui Lo stia spegnendo Adesso Vediamo Se arriva la kill E spariamo esattamente Dove ho sparato prima No niente Non l'ho beccato Si è mosso Mi sa che è riuscito A scappare È indietreggiato In tempo Ma è una gioia Stanno catturando Anche Charlie Eccolo Veloce 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 Ok Buono Concentrazione Concentrazione Questo punto È fantastico Devo Venirci Più Spesso Però Abbiamo Eccolo Eccolo Un altro No Solo un colpo Quello mi sa che È molto corazzato A quanto pare Abbiamo sparato Tantissimi colpi Purtroppo Solo pochi Sono andati a segno Ragazzi Non possiamo lasciare Il lato Perché qui Se appena ci muoviamo Veniamo fatti fuori Perché io Ovviamente Non sono il solo Che sta camperando Con un cacciacarri Quindi Diciamo che Non mi si può Non mi si può dire nulla Però anche loro Non scherzano Anche loro Non scherzano Perché hanno diversi Carri Là c'è l'aereo Eh sta prendendo la mira Sta prendendo la mira Per venirmi a prendere No niente Niente ragazzi Non è cosa La visuale Non è pulita Quindi io Più che altro Provo ad intuire La posizione Uno è stato distrutto Stanno guardando qui Binocolo La vita da cacciacarri Potrebbe essere facile Però in realtà È molto complicata Eccolo Non mi posso Purtroppo Esporre molto Altrimenti Poi Loro mi vedono E questa cosa Non va bene Non becco neanche No niente Niente Oggi No Eh lo so Alla fine mi ha Beccato da destra È una cosa che doveva Succedere A lungo andare Doveva succedere Ma stavamo perdendo Completamente La posizione Proprio Le posizioni Bravo Charlie Erano completamente Andate Bravi nemici Ecco i risultati Posto scontro Abbiamo portato a casa Comunque sia Nonostante la sconfitta Soccorri Torri di carri per uno Doppio colpo Lavoro di squadra Serie di attacchi furtivi Per tre La squadra migliore Ragazzi Video terminato Grazie per l'attenzione Noi come sempre Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao